C'è il salto a due. La palla arriva sotto misura a rush. Bel pallone per Tommaso Fartone da Cortese. Buona incursione di Moreno. Cortese che si incunea nella difesa. Per chi ora si difende è l'attacco di Ferrara. Wilson va a sbagliare due volte e nessuno torna. Ferrara si riorganizza ora a sette secondi per andare al tiro. Buona palla per Fantoni. Alla, ancora Alla nel traffico, forza molto Alla, ma fa canestro. Arriva Molinaro per il blocco, nel traffico Moreno, appoggia Cristallo e segna. Magia di anche il Moreno. Ed è bravissimo, Cortese. Panni, traffico, lo scarico, o il calcio di rigore. Sbagliato e poi tiene la palla in campo a Molinaro. Ed Eric Rush scatena con il suo canestro il boato del Pallasport. Mancano 12 secondi fuori per Venuto. Direi che Ferrara si appresta a vincere questa partita e lo fa.